Tutto il chievo dietro, fischia Fambri, occhia Piani, ci va col destro, palla nel traffico! E arriva il gol dell'1-0, la Juventus va in vantaggio al minuto 17. Prossimo futuro di questo match, Dick Steiner, tre dentro che aspettano, palla che arriva! Diventa un tiro pericolosissimo per Sorrentino, c'è anche dentro Douglas Costa, il Pipita, prova a puntare i gobi, poi si accentra, ancora Iguain, Pjanic! Destro favoloso di Milan e Pjanic, palla deviata! Moltissima barriera davanti a Szczesny, pronto Birsa, lo scarico, Radovanovic, prova! Prova, Szczesny, libera e poi Benatia, salva la Juve dal possibile 1-1! Sì, sfidiata benissimo, sembrava che dovesse calciare Birsa che invece fa scivolare la palla! 35, ancora inglese, alza la testa, lo scarico, Radovanovic, prova col sinistro, palla che scende ma non quanto serviva! Fischi dello Stadium! Bravissimo Birsa, ottimo aggancio, poi prova! Ancora Di Bala che apre, Pjanic dentro, Iguain, prova! 2-0 Juve, eccolo qua! Il destro all'angolino di Gonzalo Iguain, secondo gol in questo campionato per il Pipita, 2-0 Juve al cinquantottesimo! Asamoa sfida cacciatore, è stato un bel duello per tutta la partita! Di Bala, prova! Mamma mia, sinistro affilatissimo di Paolo Di Bala, esce! Si è schiacciata troppo all'interno! Occhio a Birsa, dentro, colpo di testa! Ha provato Pellissier che sfiora il gol dell'1-2, non riapre il match, ma che pericolo ancora una volta! Occhio a Birsa, va col sinistro, palla fuori di pochissimo! Ha volato comunque Szczesny! Ha volato, non so se si... Bernardeschi, palla dentro verso Di Bala! Occhio alla gocia, ancora Di Bala, Di Bala, sinistro! 3-0 Juve, altro gioiello assoluto di Paolo Di Bala che chiude il match!